salve a tutti grazie per essere qui in questo nuovo video oggi parliamo di una power bank della aukey è una power bank da ben 20.000 mAh quindi ha una capacità davvero davvero grande può essere utilizzata ed è utile anche se avete ad esempio un computer portatile e siete spesso in giro per lavoro e non avete la possibilità di collegarla a una presa elettrica con questa semplice power bank riuscirete a ricaricare il vostro portatile il vostro smartphone e tutte le vostre periferiche elettroniche apriamo la confezione e già vediamo come composta abbiamo manualistica sotto il cartone troviamo anche un cavetto usb c per la ricarica abbiamo poi la garanzia di 24 mesi dal produttore una manualistica con le istruzioni di utilizzo e la nostra power bank si trova in questa elegante confezione di stoffa comoda per il viaggio eventualmente all'interno troviamo la nostra stupenda power bank da ben 20.000 mAh i materiali con la quale costruita sembrano di ottima qualità troviamo due porte usb una micro usb per la ricarica e una usb c e il tasto di accensione e quindi che permette la ricarica con la possibilità di guardare anche lo status della power bank per sapere quindi se la dobbiamo ricaricare o meno quindi ritorniamo a noi questa è tutta la confezione presente si presenta davvero con un'ottima qualità al tatto insomma tutto il prodotto abbiamo una sacchettina per poter conservare eventualmente un cavetto di ricarica per il nostro iphone il nostro smartphone e tutte le nostre periferiche in maniera tale poi da poter alloggiare all'interno la nostra power bank Ahok è un marchio che è presente già da tempo ma ultimamente si sta facendo notare per la qualità dei propri materiali la cura anche dell'imballaggio e la cura con la quale presenta i suoi prodotti se il video vi è piaciuto condividetelo e mettete un like al video e iscrivetevi vi ringrazio al prossimo video ciao